Andammo sulla luna in cerca di vendetta, ma lui ci trovò per primo, Crota, figlio di Oryx. Mai avevamo affrontato qualcosa del genere. Alla fine rimasi solo io. Crota e le sue armate distrussero la luna. Se non li fermiamo, la Terra farà la stessa fine. Sardon comanda la progenie dell'alveare sulla Terra. Cerca nelle grotte, trova questo mostro e finiscilo. Trasciano tutto questo, ragazzi. Ecco a voi il DLC number one di Destiny 1 e l'oscurità della profondità. L'oscurità dal profondo. Come cazzo si chiama? Ok, l'oscurità dal profondo. E niente, ora, siamo qui che... appena finisco un attimino qui. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare il pugno di Crota. Combatti la progenie dell'alveare e trova il pugno di Crota. E sappiamo che Crota è lì. Il pugno di Crota dovrebbe essere lì, teoricamente, signori miei. E allora, io su Destiny 1, come lo giocai in Xbox 360 Destiny 1. Ragazzi, dovete sapere, è sempre il mio caro cacciatore. Ora, sto usando la lama danzante. Perché volevo un po'... l'ho sbloccato da poco e quindi... Ti ho detto, proviamola! Anche se so cosa fa. Questa è solo sciocca. Mi gamba è criptato, per tempo. Qui c'è l'alveare. Occa miseria, spepe. Attimo questa. Ecco finito. Cavolo, dovevo ricaricare proprio ora. Dai, di cazzo. Ok, cambia ora, cambia ora, cambia ora, cavolo. Ok, cambiamo alternativa. Andiamo di qua. Ok. Qui, qui, qui. Lì è andato. La maglia... Dovebbè essere c'è la magliarda? Non ditemi che... No, se sei andata... Signori, pretendo... La comparsa è la magliarda. Siccome le odio le magliarde... Sardon è il primo dei discepoli di Crota. La sua armata conquistò e distrusse la luna per il suo signore. La sua presenza è un segno. L'alveare si prepara a risvegliare l'anima di Crota. Infatti Sardon è il figlio di Crota. Prendiamo la spada. Sì, dai, dai, dai! Affettiamoli tutti. Ok. Il potere di Ishii Komuketsu... Si ha scorsi nelle mie vene. Dai! Per il potere di Ishii Komuketsu! Mi sono salvato a botta di culo, ma va bene. Il potere di Ishii Komuketsu scorsi nelle mie vene ora. Oh, non più. Mi ha abbandonato. Per anni sono sopravvissuta nelle gallerie dell'alveare sulla luna, muovendomi nell'ombra come una di oro. Tieni gli occhi aperti. Per chi non sapesse chi è Erismon, è la strega dell'alveare. Non so perché fra tutte le fazioni nemiche dei guardiani su Destiny in generale, quella che mi sta più sui coglioni non so perché è l'alveare. Perché appunto ci sono le maliarde e i cavalieri e gli orchi e gli schiavi. Soprattutto gli schiavi kamikaze. Aspetta, questo ecco. Ma che c... Peso oscuro. Peso oscuro. Già la tua luce. Lancia un coltellino, coltellino del sapere. Beccati. Ma ti piace ritirare a sto punto? Va bene, lo dici tu. Non morire, non morire, non morire. Ha malincuore a sto punto. E' lì, e' lì, e' lì. Aspetta. Dai, fattaci, fattaci. Bravo, bravo, bravo. Sì, 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 sì. Vieni, 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 vieni. Vieni. Ah, ti ho fregato. Perché c'è, paura di superare il campo a protetti? No, 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 no. No, 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 rimani lì. Anzi. Toca. E poi, dove cazzo siete spucati? Lo spiegate? Con quella tematica fisica me lo stai spiegando. Con la legge di Kirko? Om, culom. Ora che Sardon è morto, torna da me. C'è molto altro da fare. Va bene. I discepoli di Crota non si fermeranno finché la Terra non sarà pronta per il ritorno del loro padrone. Ok, ragazzi, per il momento la missione la voglio concludere momentaneamente così. O meglio, se c'è un filmato finché, concludo se ci sarà mai filmato. Poi, boh. Hai sconfitto il pugno di Crota, ma la minaccia permane. Allora, hai sconfitto il pugno di Crota, ma la minaccia permane. Le armate di Crota sono alla ricerca dell'ultima mente bellica. Hai già incontrato Omnigull? E che cacchio è? Non me lo ricordo più. Ora devi fermarla prima che trovi Lasputin. Ok, Lasputin me lo ricordo. Se riuscisse a impossessarsi dei suoi sistemi e ad accedere alle sue conoscenze, non ci sarà più il modo di fermarla. Ok, understand. Le armate di Crota cercano l'ultima mente bellica. Devi fermarle prima che trovi Norasputin. Ok. Ok, ragazzi, per ora il video lo concludo qua. Cosa aspetta? E noi ci vediamo al prossimo video del DLC 1 di Destiny. Bella ragazzi, statemi bene.